Benvenuti, un gradito ritorno davanti alle telecamere di Abruzzo Web, Fabrizio Magani, direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici per l'Abruzzo. Il direttore ci porta in apertura qualche buona notizia, finalmente uno dei simboli del terremoto dell'Aquila Immagini che hanno fatto il giro del mondo, la chiesa delle cosiddette anime sante in Piazza Duomo, appalto a breve. Sì, abbiamo chiuso l'accordo con la Francia qualche settimana fa, che aveva bisogno di qualche passaggio amministrativo, un atto aggiuntivo rispetto al protocollo originario, è stato presentato all'Ambasciata di Francia a Roma, alla presenza dell'Ambasciatore, il progetto esecutivo e quindi abbiamo sottoscritto, siglato l'accordo che produrrà poi tutte le fasi successive e proprio in questi giorni ci stiamo accingendo a pubblicare il bando, un bando europeo quindi anche complesso nella gestione amministrativa, è un progetto che vale circa 8 milioni di Euro complessivamente e questo è stato l'ultimo atto in ordine di tempo che ci ha permesso di chiudere tutte le cosiddette adozioni, che sono finalmente tutte partite. La lista della spesa del G8? Certo, che per vari motivi insomma hanno conosciuto una battuta d'arresto, qualche freno, quindi sono, devo dire, se posso permettermi, anche piuttosto fiero nell'essere riuscito con il mio ufficio a recuperare tutti i delegati stranieri, a metterli a conoscenza delle novità non facilmente comprensibili in certi casi, delle novità che hanno come noto insomma trasferito alla struttura dell'amministrazione e i beni culturali statale che rappresento tutte le funzioni che erano prima in capo al vice commissario delegato per i beni culturali. È stato un lavoro come dire molto interessante poi anche nell'emergenza di questi mesi, però devo dire, posso dire credo che siamo riusciti a fare un buon lavoro. Non è l'unico intervento delle adozioni, ce ne sono altre, altri sono in fase di completamento del primo lotto, pensiamo a Palazzo Ardinghelli, ma poi ci sarà la grande questione del Castello Cinquecentesco, la chiesa donna adottata dalla Germania, insomma dal punto di vista dei beni culturali qualcosa si muove. Sì, provo a metterle in sequenza cronologica e ricordando, lo faccio abbastanza spesso ultimamente perché credo che sia il caso, che il tema delle adozioni vive di grossi tagli, se mi posso permettere di rappresentarli in questo modo e anche di complessità progettuali naturalmente che corrispondono all'investimento economico, ma il mondo delle adozioni vive anche di piccoli, modesti contributi destinati a una scultura, a un dipinto, al restauro di un'opera che sta a cuore a una comunità. Il nostro lavoro in questi mesi ha raggiunto tutti i donatori e quindi stiamo anche portando avanti quelle adozioni più piccole, insisto, però non meno significative e quindi devo anche ricordare che oltre all'inaugurazione di Porta Napoli di qualche tempo fa, che è stata possibile grazie al contributo della Cassa della Fondazione, Cassa di Risparmio della Carispac, abbiamo poi anche concluso il Palazzo De Nobbi. Il Palazzo De Nobbi che ho rivisto qualche settimana fa, dopo un po' di tempo, ho visto che si svolgono conferenze, incontri pubblici, devo dire anche lì non nascondo un certo piacere nell'averlo poi riconsegnato al Comune. Poi sono in corso i lavori che ho controllato stamattina a San Giuseppe De Minimi, il Kazakistan. Abbiamo un appuntamento importante a Donna il 27 febbraio, data in cui mi sono impegnato a portare la notizia dell'impresa che si aggiudicherà ai lavori. In effetti proprio in questi giorni una commissione di gara sta svolgendo il proprio lavoro per individuarla. Dei francesi abbiamo detto, dell'Alleanza Italo-Francese che mette in gioco 3.250.000 Euro per ogni Stato e poi alla fine non possiamo dimenticare il governo russo effettivamente che ha garantito proprio alla fine dello scorso anno, proprio negli ultimi giorni di dicembre, l'intera somma prevista dall'accordo. Quindi il contributo è arrivato a 9 milioni di Euro, con i quali stiamo procedendo nel restauro di Palazzo Ardinghelli che è edificio in consegna proprio alla mia amministrazione, al Ministero per i beni e le attività culturali e si sta per chiudere il progetto per San Gregorio Magno. È un progetto complesso perché mette insieme restauro nella parte superstite e ricostruzione, un progetto che tra l'altro abbiamo recuperato, che è uscito da un concorso pubblico, quindi anche la metodologia è stata piuttosto interessante vista la particolarità dell'intervento, è proprio questione di poche settimane e già c'è in programma l'appuntamento per la pubblicazione del bando. Insomma io direi che tutto questo capitolo così importante, così interessante anche dal punto di vista delle aspettative e quindi anche per il chiaro valore simbolico che incarna, perché degli Stati, dei governi stranieri si sono impegnati e quindi ho ritenuto che la priorità del nostro intervento dovesse essere destinata proprio a questo fronte. Direi che proprio in queste settimane stiamo chiudendo le gare in corso, aggiudicando lavori, insomma è un percorso che nel giro di un paio di mesi vedrà tutti questi cantieri attivi, alcuni lo sono già, alcuni sono chiusi come dicevo, però si potrà finalmente completare quell'attività. In parallelo, l'ha ricordato, c'è stata un'altra attività non meno complessa, perché dal mese di settembre, su impulso del mio Ministro Ornaghi e soprattutto del Ministro Barca, abbiamo esplorato la strada di una programmazione autentica. Certo, perché fino ad oggi abbiamo parlato, fatta eccezione per le messe in sicurezza che sono uscite dai fondi dell'emergenza, diciamo, ad oggi parliamo di donazioni fatte da privati o assimilabili o da stati esteri, mentre a breve, si spera, dalla delibera Cipe approvata il 21 dicembre dovrebbe arrivare la prima tranche di finanziamento da 70 milioni e mezzo all'incirca per la prima annualità della programmazione del piano appunto fatto da 525 milioni di euro che serve per il restauro di una parte del patrimonio culturale, perché non è neanche completo diciamo, quel programma. Sì, è una duplice strada, la premessa anche qui è d'obbligo, perché nel frattempo la fine dell'esperienza commissariale ha prodotto poi anche un trasferimento di risorse per interventi già programmati e anche lì ci sono edifici molto importanti, la chiesa di San Filippo Neri che è in corso di appalto, noi poi abbiamo aperto un fronte piuttosto importante con alcuni proprietari di beni culturali, in particolare il comune dell'Aquila, che ci ha chiesto di fungere, come potrei dire, da service tecnico-amministrativo per lavori importanti che riguardano loro opere, mi riferisco ad esempio alle mura urbiche, mi riferisco al teatro, la chiesa teatro di San Filippo Neri, insomma è difficile magari riassumere l'attività in poche parole, però il mondo di un progetto di restauro vive appunto di una fase tecnica iniziale che qui è particolarmente importante perché il mondo del miglioramento sismico coniugato al fronte del restauro è un tema di grande complessità, è il tema che ci piace di più, poi alla fine non lo nascondo. Anche la necessità della conoscenza del bene che si fa. Assolutamente, assolutamente e poi inizia quel mondo amministrativo di cui in particolare si occupa la direzione regionale che è quello di organizzare gli appalti, le aggiudicazioni e poi di continuare la vita di un cantiere appunto con la direzione lavori e potrà sembrare inutile forse ricordarlo, ma quando la mole dei lavori cresce diventa tutto complesso, anche la logistica all'interno di un ufficio, ci sono magari due o tre commissioni che lavorano contemporaneamente e quindi bisogna organizzare bene l'ufficio, credo che questa sia la prima cosa. Poi appunto come ricordava lei, l'ambizione di poter affrontare a questo punto con una certa solidità di impegno, una prospettiva che è più lunga nel tempo, che richiede naturalmente risorse, ma come tutti sanno le risorse arrivano se si dimostra poi capacità di programmazione ma anche di spesa. Quindi partiamo dalla prima annualità che vale appunto circa milioni di Euro e che è al centro della delibera cipe che lei ha ricordato e che in questo momento è in corso di approvazione, sta seguendo il suo iter diciamo. È alla porta dei conti per nulla osta definitiva. Esattamente, lì ci sono 26 interventi per la prima annualità e quindi una mole assolutamente straordinaria proprio per uffici come i nostri. Però noi abbiamo fatto dei calcoli molto seri, nel senso abbiamo cercato di comprendere serenamente quale poteva essere la nostra capacità di progettare questi interventi e in questi giorni proprio si stanno chiudendo ad esempio i primi 10-12 per l'esattezza progetti sui 26 previsti. D'altro canto devo anche ricordare che le comunità, le diocesi, i comuni avevano già avviato una propria progettazione per cui la direzione regionale è andata poi a sentire il singolo proprietario, ha cercato quindi di creare una situazione di coordinamento territoriale in modo anche di acquisire quello che già c'era per portarlo poi a perfezionamento. Quindi il tentativo chiaro è stato quello di non disperdere le energie, disperdere le economie che sono state messe in gioco in questi anni. Quindi ritengo che nel momento in cui ci sarà appunto il via per effetto dell'iter, della conclusione dell'iter del sistema dei controlli appunto della delibera cipe, siamo in grado anche di avviare prontamente i cantieri previsti. In testa c'è un luogo che sta a cuore a tutti, sta a cuore a noi, perché ce l'abbiamo in consegna che è il Forte Spagnolo, una programmazione su tre anni, un progetto che vale circa 30 milioni di Euro, anche lì c'era, grazie ai funzionari della soprintendenza che avevano già pensato al progetto generale, perché? Perché nel frattempo abbiamo già appaltato una parte del castello, abbiamo capito che per noi era possibile gestire, governare questo importante cantiere, proprio perché c'era già stata una fase propedeutica, istruttoria di un progetto generale. Poi abbiamo guardato questa città e ci sono delle chiese importanti, Santa Maria Paganica ad esempio, che sta lì in testa perché come sa bene è un tema, innanzitutto una chiesa molto importante, molto bella in un luogo che ha una precisa caratterizzazione urbana e poi c'è un tema legato al restauro che è oggettivamente molto interessante, potrò apparire freddo in questa valutazione, poco sentimentale, però devo dire che quella chiesa scoperchiata effettivamente dal punto di vista del restauro rischia di diventare un oggetto da manuale, insomma, per le scelte in gioco. Quindi ci stiamo applicando anche, non lo nascondo, a monumenti di grande qualità, insomma. Non sarà solamente questo il lavoro che sarete chiamati a svolgere perché ricordiamo il patrimonio vincolato dentro le mura dell'Aquila, è il 70% all'incirca del patrimonio edilizio, in più a questo si somma tutto quello delle frazioni dell'Aquila e quello degli altri paesi del cratere. Tutti i progetti che dovranno essere esaminati dalla vostra struttura, quindi servirà una grossa capacità di organizzazione e di dialogo anche con gli altri enti o d'organismi coinvolti in questa fase di esame, di approvazione e di rilascio anche dei contributi per gli edifici privati. Sì, ha detto bene il dialogo che per la verità c'è sempre stato, per cui io non so se questo può costituire un valore, ma mi pare che ci sia in questo momento una certa simpatia nei confronti dell'amministrazione dei beni culturali. Io avverto un certo consenso che si basa poi sul lavoro quotidiano. Mi fa piacere che lo ricorda perché poi ci sono le soprintendenze, in particolare la soprintendenza dei beni architettonici che dal primo momento è stata chiamata a intervenire oltre alle competenze tradizionali. Penso ad esempio alla valutazione sulla congruità economica dei progetti che normalmente non è occupazione degli uffici dell'amministrazione dei beni culturali ed è una firma molto pesante quella che esce dalla soprintendenza anche per il livello di responsabilità che mette in gioco. Le cose direi stanno funzionando bene perché c'è una particolare attitudine tecnica e devo dire un'enorme disponibilità da parte del soprintendente, dei soprintendenti che si sono avvicendati, ma soprattutto dei funzionari che poi sono chiamati quotidianamente a esaminare i progetti. Direi che su quel fronte c'è stato anche uno sforzo che forse è più silenzioso, meno evidente, ma che risponde a un'esigenza che è il principio finale che ci sta a cuore, cioè questo centro, questo centro così complesso, così articolato, mobile, con quel 70% ora all'incirca, certo. C'è una parte che è opelegis dichiarata di interesse culturale e poi c'è tutta una parte che è intervenuto sul patrimonio privato, che è stato dichiarato di interesse culturale nel tempo e questa è una singolarità, questa è chiaramente una singolarità, nel senso che c'è un volume importante, è una sottolineatura per noi di tipo amministrativo, ma questo ha una ricaduta sostanziale poi sul piano delle scelte, sul piano dei valori economici in gioco. E quindi la soprintendenza sta esaminando quella parte che è di nostra competenza, quando esiste un aggregato e all'interno dell'aggregato esiste un edificio di interesse culturale, insomma si è avviato un percorso, credo anche in quel caso di semplificazione, la recente scheda parametrica che è stata elaborata proprio all'interno della soprintendenza. Sì, è uno dei temi più dibattuti. Sì, proprio in questi giorni, certo. Sì, no, cambierà le cose, le migliorerà, diciamo è una procedura nuova, quindi come tutte le procedure va testata sul campo per capire. Sì, è una procedura che mette a sistema però dei valori oggettivi, per cui ha perfettamente ragione, occorre la certezza e la prova dei fatti. Però sul piano teorico e credo anche pratico è uno strumento di valutazione oggettiva, che fa scattare dei parametri economici in funzione di alcuni elementi architettonici. Ma io ricordo anche il nostro lavoro che si è svolto all'interno della direzione regionale invece di un'altra scheda parametrica che riguarda il valore paesaggistico degli edifici. Per cui è stato siglato anche un accordo con il Comune dell'Aquila. Certo, qualche mese fa. Ci tengo molto perché probabilmente quel passaggio non era particolarmente chiaro, forse un po' tortuoso, era difficile immaginare che un singolo edificio potesse avere un interesse, o meglio fosse assimilato al concetto di interesse paesaggistico, che è un argomento molto sofisticato che negli anni ha conosciuto un'evoluzione anche culturale di un certo livello, forse è la parte più bella del nostro codice dei beni culturali. Noi abbiamo fatto una proposta, abbiamo tentato di assimilare quello strumento nato per avere delle economie in più, per avere delle risorse in più, l'abbiamo applicato all'intero centro storico. Questo significa che il proprietario di un edificio, pur non vincolato, ha l'opportunità, la libertà mi rendo conto, però una libertà importante, è un incoraggiamento non da poco di avere delle risorse in più per avvicinare l'intervento di recupero al concetto di restauro. Il centro storico come valore in sé e non come la somma di singoli valori, che ha anche un senso comunitario importante, perché vale per l'Aquila e vale naturalmente anche per la parte restante di questo territorio. Per le frazioni e per tutto il cratero. Ma io la vedo così, insomma, io ho imparato molte cose qui all'Aquila, ho imparato molte cose degli architetti, degli urbanisti e dalla storia dell'architettura locale, perché insomma questo concetto di centro e periferia che affonda le radici della storia stessa della città è un tema che mi sta particolarmente a cuore, nel senso che è un bellissimo tema di studio, che qui si può applicare perché c'è una ragione storica. Se perdiamo di vista questo orizzonte, il tema non potrà mai essere risolto dagli ingegneri, dagli architetti e io avverto proprio l'esigenza di tornare a parlare di restauro. in questa città, lo si fa naturalmente, noi poi siamo dei burocrati insomma, spero un po' raffinati, ma muoviamo delle carte e lo facciamo con le carte e quindi con le carte si può creativamente trovare una strada per raggiungere l'obiettivo che ci importa, ma penso importi molto anche agli aquilani. insomma, non vogliamo soltanto, io non immagino adesso quasi da aquilano adottivo, se posso permettermi, visto che passo la maggior parte del mio tempo qua, non vogliamo soltanto edifici belli astrattamente, qui ci sono dei valori da difendere, che si misurano su una scala urbana che è grande e quindi non bisogna mai perdere di vista questo orizzonte, insomma, cioè stare un po' in alto serve a ragionare meglio. Guardare l'insieme. Credo di sì. Benissimo, la ringraziamo e per quello che ci ha detto le auguriamo buon lavoro, insomma, perché ne avrà bisogno. Grazie.